Stai entrando in un'area sicura. Grazie. 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 Attenzione. Stai abbandonando l'area sicura. Agente, ci sono dei problemi di comunicazione con la rete. Devi andare a dare un'occhiata. Non ho mai girato una scena simile, quindi non posso esserti di grande aiuto. Passo e chiudo. Avanti così. Guardami! Ho detto guardami! Guardami! Grazie. Agente, ci sono dei rifornimenti da recuperare prima che qualcun altro li trovi. Possiamo farcela. Toiti dei mezzi, coglioni. Grazie. 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 Grazie a Dio. Ho provato a chiamare l'ospedale, ma... Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.